Il primo non contava, non ero pronto E se lui non si svegliesse più? Non siamo ancora a questo punto, ok? 5 a 0 Non ero pronto Ethan, andiamo tesoro Dobbiamo tornare in hotel solo qualche ora Devo riposare Io vorrei stare qui con te Credo sia una buona idea andare Puoi fare merenda, guardare un po' di tv Ti prometto che ti chiamo se cambia qualcosa, ok? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti